Questo programma è offerto da... Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno al nostro canale, sono Picasso, guarda di nuovo su DIVO MODERAZ2, madonna da quanto tempo che non lo registro... Questa volta porci per giocare un pochettino con ingegneria tedesca, perché... perché sì, ingegneria tedesca, quindi Dell, adesso vedremo con quale dei quattro set che ho personalizzato, perché questo non ho... Ok, questo... questo ok, ma questo perché è proprio di base? Che c'è questa roba? Oddio, fucile a pompa? Sì in realtà... Nessun colpo critico, vulnerabilità ai danni da fuoco per cui l'equipaggio, colpa segno e sanguinamento per 5 secondi, sì, mettilo... Qua giusto questa qua per fare figo con la reschina di Natale... Perché sì... Sinceramente avessi da poter personalizzare un'altra skin della pistola, magari ce la metterei pure, però per il momento facciamo che andiamo così... Quindi... Ingegneria texana, porci prima però di lanciarci nella mischia, vi invito, mi raccomando, a passare per la descrizione di questo canale... Per le descrizioni di questo canale, perché da questo momento in avanti e già da precedenti gameplay avete visto... Ogni volta che parte un episodio di Team Fortress c'è... La clip sponsor al canale Discord della Fortezza, che è un canale Discord italiano di giocatori di Team Fortress... Quindi, se siete giocatori di Team Fortress e volete trovare altri giocatori di Team Fortress per divertirvi insieme... Per sbroccare amabilmente in compagnia sui server malati di questo gioco... Mi raccomando, fateci un salto... Io non ci guadagno nulla da questa cooperazione, però magari loro fanno un po' di pubblicità a me e io faccio un po' di pubblicità a loro... Dur in avanti trovate il link a questo canale Discord, è sempre in descrizione, l'ho aggiunto ai link che vengono postati di default nella descrizione di ogni mio video... Quindi, mi raccomando, fateci un salto e per il resto andiamo a incominciare, let's rock! Oh... ok, ci siamo... Siamo di nuovo in partita, quella prima è andata a merdaccia, ma non per colpa mia, perché... Mi faceva caccare, amabilmente caccare proprio, amabilmente... Qua abbiamo... oh beh, oddio... 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 Vedo un team che potrebbe essere una roll, quindi potremmo anche farcela, vediamo un po'. Io, come al solito, in questi casi, non metto mai la Sentry davanti, la metto sempre qui... Poi qua mettiamo il 4 qui dentro... Che molti direbbero, è scontato, è vero, però... È il punto più sicuro dove mettercelo. Eh, ma no, la Sentry lì in mezzo, ma che è quella roba? Ok, tutta una buona volontà, ma come fa quella Sentry a sopravvi... Oddio, quel dispenser lì potrebbe anche funzionare, in realtà. Io gli buildo la Sentry, vediamo un po' se... Se riesce a fare qualcosa la piccolina qui. Io le buildo tutte e due, magari in due riescono meglio, eh. Oddio, attenzione alle spies. C'è un spy che si tratta qui! C'è un spy che si tratta qui! Questo lo potenziamo. A parte che se spunchigliamo, queste strutture possono servire a ben poco. Aspetta un attimo. Oh, bene. Zio, sto facendo tutto io con le tue Sentry, dammi una mano. Eh, che cazzo, te la sto buildando io, muoviti. Fa qualcosa, per Dio. Oh, là. Madonna. Uh, preso! No, no, no! Sono caduto. C'è un teletrasporto qua sotto. Ah, ok. No, pensavo, sapete, con l'intelligenza della gente è possibile sempre che... Che qualcuno metta... Oddio. Preso. Cazzo. Ma che succede? Ma perché ci sono queste strutture messe così? Ma che dobbiamo dirgli con quelle strutture? Preso, preso! No, no, no! Eh, troietta, no. Proprio no. Proprio no. The spy creep around here! Ti aiuto io a fizzarla, vai tranquillo! Madonne! La violenza! La violenza repressa! Dai, zio! Buildala, buildala, buildala! Buttala giù, buttala giù! Buttala giù! Vai, 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 vai! Buildala, 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 buildala! Vai così! Tirala su! Tirala su! Io sono credit to people, altro che certi ingegneri di merda! Dale! Le nostre sentry sono immortali! Vaffanculen! Io quasi quasi la sposterei, la mia la metterei! In un punto... Zio che figata, poter fare così! Hola! La metterei qui più che altro per bloccare un pochettino... Tranquillo ci penso io! Aia cazzo! Oh! Grandi la spy! Ma che cazzo? Io non ho buildato il TP! Il TP, TP! Pusha il TP! Pusha! Eh dai, era l'attaccata! Oh! Che io ho fatto più punti! Cioè, ho fatto 12 punti di teletrasporti! Cioè, due kill l'ho fatto! Dovrei mettere anche il dispenser da qua! I think spy on point! I think spy near the point! Eccola qua! Salva! Salva la salva! Oh, subito l'ho detta io! Preso! Dance, ragazzi! Dance! Ok, adesso cambiamo set perché con questo in assalto è un po' difficile. SONTO ALBOTTADO we're not! Sof! Wait, Stains! Oh, per il momento zero morte abbiamo fatto solo tre kill ma stii cazzo! Abbiamo fatto punti con i teletrasporti, guys! Se va bene come nel primo round Abbiamo la vittoria in tasca Mi ero dimenticato di quanto fosse divertente Tauntare Minchia, tre ingegneri Eh, tre ingegneri, tre medici Yes Nessuno che fa mai medici Mai nessuno che fa il medico Qua ne abbiamo tre Abbiamo già vinto praticamente Ah, ecco perché non usciamo C'è il grosso incazzatissimo Quel grosso lì Tutto gazzato Che ha fatto ridere il mio grosso E io che gli ho sparato una sfuggilata in faccia La metto qui più che altro perché Merda! Eh, niente Questo adesso si builderà solo Merda! Eh, addio Morto, morto, morto Morto, morto, morto Cazzo Madonna Che culo Che culo Mi sono visto più morto che vivo Io lo metto qua Non so perché ma penso che qua possa No, aspetta, aspetta Piovanti Qua perché se salgono da quelle scale Mi sono già No, chi cazzo mi ha ucciso? Cazzo E chi l'ha visto questo? Non so, bene E' di che cosa ne mette qui? Ma non è il spionno, è il spionno! Che ha detto? Ma non è il spionno Buon team, buon team, let's go! Stiamo facendo poco ma stiamo facendo quello per cui siamo pagati, ovvero buildare e dare supporto. Iniziamo a preparare i teletrasporti qui, più che altro fammi mettere la mini sentry all'entrata, qua dietro questo muro così, così se a uno si prova la furbata di entrare si trova almeno una sentry piccolina a prenderlo a scappare. Grande così, buildala, grande così, buildala tutto. Più che altro questo ci serve al secondo cibo. Guardate qui! Ma non è inizia. Cro%, non è inizia. Vai così! In arrivo! Sentry, ride ahead! Merda, questi cecchini! Mazza i cecchini! Quanto cecchini, solo cecchini! Vediamo se riesco a spostare la Sentry, tanto che adesso sono distratti. Tanto siamo riusciti a sconcare, quindi quel po' vale. La metto per il momento qua dietro così. Ok. Io la metterei qui per coprire nel caso ci arrivano da dietro e metterei il 4 qua dietro qua. A parte che se caricano come bestie i miei abbiamo già vinto, quindi potrebbero non essere utili queste strutture, però tanto vale provarci. Bravato! Sì! Ma scopo scopo! Ma scopo scopo! No, 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 no! Non, non vado a aprire! Sì! Sì! Vale, mano. In questo video! Anche la Sentry? Vabbè, zio, è una Mini Sentry, non è che... Ci metto due secondi a rebuildarla eh. È fatta apposta. Ok, è questo, è quello, stop, stop, stop. Merda Incoming Quello è grosso A parte che non è molto furba quella spia però Brenla, bella doppia Minchia Minchia Lo sterminio col fucile Minchia lo sterminio col fucile Minchia guardate la kill Guardate la kill streak Mi chattichi qui questo fucile Madonna spara Spara in festeggiamento Dali ho Madonna Sono entrato Pum Pum Sono entrato Ho fatto senza un macello Ho fatto Ho iniziato a sparare al cazzo di cane In mezzo al mucchio Allora Inizio a mettere qua questo Inizio a mettere qua Più che altro perchè se qua entrano poi Questi qua ci picchiano giù di testa bassa Oh 9968 passi Buono Me ne mancano pochi 32 me ne mancano Inizio a farvi davanti e indietro per il corridoio Mi servirebbero ferri Mi servirebbero ferri più che altro Sticky's Sticky's outside Ok Boom Madonna quante sticky's Quante sticky's Quante sticky's Quante nella vita Non c'è Noi non c'è Noi non c'è Noi non c'è Noi non c'è Ma la mia è la mia segna Merdo Aia, aia, Dio, ma Dio Vediamo se riusciamo Rompegli un po' il cazzo Eh, crepa, puttana Io te la ripaccio Vai così, pildala Merda Dai, quello è morto Merda Merda, merda Merda Eh, tanti ingegneri Tanti soldati, troppi soldati Desimamente soldati Dai, zio, vai Pusciali Piazza Non posso perdere Non posso perdere Ahia merda Aia cazzo Sono concentratissimo, scusatemi Ok, qua è tutto pronto Mettiamo questa per coprire Ma quel rotto in culo lì sopra Non te ne vuoi andare via, l'orcio 2 Oh, ma porca puttana They are shooting from the windows Testa di cazzo se mi parli russo Che cazzo vuoi che ne capisco Parli in inglese, testa di merda Merda la porta Ti sei inchiastrato, coiore Questo dio Andiamo, andiamo, andiamo Ma volta Ma volta Ma volta yes ma è stata corrida ma è stata corrida è stata corrida incoming non è si a chi ha detto a chi è dietro Qua, qua, qua il zio! Med, Med, qui! Med, qui! Med, qui il dispenser, qui! Med! C'è il dispenser lì! Questo posso spostarlo adesso. Mettiamolo qua. Mettiamolo qua. Più che altro non vorrei metterlo troppo avanti perché... Se ci caricano è meglio averlo posto un po' fin dietro. Merda, ce l'ho dietro. Mettiamolo qua. Tuttavia, scappo! Vincere qua. Certo, non arriviamo niente di più. Ok, questo è qua, questo è qua, manca il dispenser, ok, arrivo. My teleport is ready! Madonna, quanta gente! Ma abbiamo spie, non abbiamo spie! Spy, spy, red spy around here! Non vuoi, non vuoi, io giro! Però non vuoi! Non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi! Ma qua, eh? Non so che è qua. Beh ragazzi, che ce la facciamo, dai che ce la si fa! Non vuoi, non vuoi! Non vuoi! Aia, merda! Provo a sparare un po' nel mucchio, vediamo un po' se riesco a fare un po' di danno. Madonna, quanta gente che ce l'ha in mezzo! Vai, danni collaterali, vai che funziona! Madonna, 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 madonna! Cavatevi, fatemi metterla sentri! Eh, testa di merda e muori! Non abbiamo di spie, levati dal cazzo! È bello che l'ho pure colpito, quell'ingegnere, vacca puttana! Madonna, i critici! Crit's incoming, crit's incoming! Se li hai beccati tutti i miei colpi, quello! Sentry, right up there! Sentry, right up there! Non vedo una sega perché c'è il medico in mezzo! Sto dominando un tizio? Aia! Dai, 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 dai! Merda, mi hanno buttato giù la sentry! La sentry gunfight! Ah, merda! Proiettili! La sentry immortale, porca puttana! Eh, lo so, l'avevo visto lì! Tranquilli, l'avevo visto! L'avevo visto! Madonna, quanti tagli che dovrò fare! No, merda! Stavo facendo destra-sinistra, destra-sinistra! Yes! E siamo terzi in classifica, porci! Comunque, porci, termino con l'episodio di strada che vi è piaciuto! Like to make sure, sapete come fare! Il link è al progetto di questo video, se non lo so iscrivetevi su YouTube, iscrivetevi, mi raccomando, noi ci vediamo ad un prossimo video! A presto, porci! Ciao, ciao! Yes!